Ed io regamente me la rido, me la rido a crepapelle nei confronti di tutti quelli del mondo editoriale i quali dichiarano in interviste accurate che sono stati colti di sorpresa da quella che è la rivoluzione digitale come se fosse un evento imprevisto e imprevedibile ma poveri ragazzi miei, non avevate capito nulla che dieci anni fa stava accadendo quello che sta accadendo oggi ed oggi pazienza per voi, leccatevi le ferite, cercate di recuperare il ritardo magari immaginando di improvvisarvi improvvisamente Amazon quando siete poco che niente di improvvisarvi qualche cosa di grandioso, una specie di Google, perché no? Perché l'Italia è piena di improvvisatori che poi vanno a battere la testa e quindi la rido a creare la testa